Oh eccoci qua ragazzi, eccoci qua dove siamo sempre alla vigilia delle partite prima di Napoli-Milan. Eccoci qua, siamo qua pronti, consci della forza dell'avversario ma pronti, noi ci siamo, poi vedremo evidentemente che cosa succederà. Avete visto, avete seguito la conferenza stampa di Stefano Pioli? Una bella conferenza stampa, una conferenza stampa importante, una conferenza stampa nella quale il nostro allenatore ci ha fatto capire che corde ha toccato in questa sosta. Lo ha detto ai ragazzi, non è finito niente, non mollate niente perché ci si può ancora giocare tutto in 11 partite. Sperando poi che possano essercene altre cinque, due ci saranno sicuramente, vedremo se ci saranno anche altre due o eventualmente addirittura altre tre. Il calcio è il calcio, bisogna esplorarlo fino alla fine per capire che cosa c'è in fondo. Quindi da questo punto di vista il mister ha anche detto in conferenza stampa prima di partire per Napoli che ci danno tutti già fuori con il Napoli in Champions League, ci danno già tutti fuori dalle prime quattro. E quindi sono questi i temi, gli argomenti che ha utilizzato nei confronti della squadra perché la nostra è una squadra sensibile a queste cose. Quando tutti sottovalutano il Milan, quando tutti danno il Milan per battuto, questo è il momento del Milan. Ora io non so se questo ci basterà per domani, non firmo polizze per domani perché quando vai a giocare sul campo di un avversario così forte, così dominante, così preponderante, così continuo, non puoi prevedere quello che succede. Non puoi vivere di corsi e ricorsi storici, però intanto per gli ultimi due mesi di stagione, non soltanto per la prossima partita, il mister ci ha fatto capire quali sono le corde, quali sono le corde toccate, quali sono le motivazioni che va a dare alla squadra. Mi fa piacere che oggi il mister sia tornato a parlare di Leao in relazione ai moduli. Non so chi ha seguito la conferenza, chi magari ne leggerà tutte le sintesi dettagliate, si può andare sempre sul canale YouTube del Milan per vederla ulteriormente, la conferenza stampa di Stefano Pioli. Stefano Pioli l'ha ribadito, non c'è un problema di Leao nel 3-4-2-1 o di Leao nel 4-2-3-1. Leao è libero di andare dove vuole, non è vero che il 3-4-2-1 accentra Leao, è una fola. Il mister infatti educatamente, civilmente, mi ha detto, io ve lo ripeto ma vedo che voi, che è la stessa cosa che dico un po' io anche, un po' ad alcuni amici e colleghi, anche un po' a voi, non è vero. C'è stata questa grossa gomma da masticare che è diventata un pastone da masticare di Leao che avrebbe cambiato modulo e quindi si sarebbe inaridito che è una panzana totale. Ma vi ricordate? Allora, secondo voi Leao gioca esterno solo nel 4-2-3-1. Ma vi ricordate gennaio Leao? Ve lo ricordate? Febbraio Leao? Ve lo ricordate che dopo la parita con la Lazio nel vostro 4-2-3-1 Leao a sinistra, poi non ha giocato la parita successiva col Sassuolo per scelta tecnica? Ve lo ricordate? Non c'entra il modulo, c'entrano gli alti e bassi di una stagione. Però Rafa ci sta mettendo tutta la buona volontà. È rientrato 24 ore prima dalla Nazionale. Rafa è legatissimo al Milan, Rafa è attaccatissimo al Milan. Non c'è un problema di altri discorsi sul momento di Rafa. È un momento di alti e bassi suo. Come c'era stato anche a febbraio-marzo della scorsa stagione. Non è legato al modulo di gioco, non è legato ad altre cose. Assolutamente no. Quindi da questo punto di vista, noi dobbiamo stare sereni. Cioè Leao gioca bene, Leao gioca mediamente, Leao non gioca bene perché fa parte dei saliscendi, dei tornanti, delle curve di una stagione. Non perché ci sia un modulo che lo inaridisca o perché ci sia una situazione extra calcio, vedi il contratto, vedi il futuro che lo distrae. No. In cuor suo Rafa ha le idee chiare, ha maturato le sue cose. Il problema è, lo sappiamo, ma il problema della multa c'era anche quando Leao volava alla fine della scorsa stagione nei primi mesi di questa stagione. Cioè la multa di 19 milioni di euro, una roba mai vista negli ultimi anni, è qualcosa che pesa, ma peserebbe a chiunque di noi, parametrata alle entrate di ciascuno di noi, e peserebbe su qualsiasi calciatore. Quindi, ragazzi, 19 milioni di euro in carriera a Leao non è ancora guadagnata. Lo sapete questo? Sì, lo sappiamo. Prima che poi mi diciate, ah, io mi alzo al mattino, i sacrifici di ciascuno di noi, anche io mi alzo presto al mattino per lavorare. Quindi i sacrifici di ciascuno di noi li conosciamo ciascuno di noi. Ma vi notifico che in carriera, nel corso della sua carriera, 19 milioni di euro Rafa non è ancora guadagnata. E quindi c'è una multa che è superiore ai guadagni che ha maturato fino a questo momento la sua carriera. È chiaro che è una cosa che un po' pesa, ma anche quella non inficia. perché pesava anche quando volava contro Lazio, Verona, Fiorentina, Atalanta e Sassuolo, o nel derby d'andata, o in molte altre partite. E quindi è un tema di rendimento suo, non altro. Come giochiamo domani a Napoli? Non lo so, non ne ho idea. Il mister ha detto in conferenza stampa che non giochiamo a specchio, per cui non giochiamo a specchio. Però è stato provato tutto questa settimana, specchio, non specchio, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo. Oggi i quotidiani davano Braindiaz a destra e Krunic centrale. Vediamo. Penso anch'io che possano giocare insieme sia Abraim che Krunic. Però, come, dove, perché, lo vediamo domani. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una grande partita tattica a Napoli, perché ogni tanto, nelle ricostruzioni si scrive, l'anno scorso il Milan ha sorpreso il Napoli con che si trequartista. Non è. L'anno scorso il trequartista era Ben Nasser. Era un trequartista tipico, incursore, che arrivava puntando centralmente a intervalli regolari. Vi ricordate l'inizio di Napoli-Milan nella scorsa stagione? Il primo episodio è un contatto sospetto nell'area di rigore del Napoli, poi Orsato ha detto a tutti e due, alzatevi, di Coulibaly su Ben Nasser. Perché quante volte Ben Nasser va a prendere, beh, con la Salernitana era stato fischiato un rigore per l'intervento di Bradaric, ma lì Ben Nasser con la Salernitana stava andando verso la bandierina del calcio d'angolo di destra come zona attacco del Milan. Invece l'anno scorso all'inizio di Napoli-Milan percuoteva centralmente. L'anno scorso Ben Nasser ha fatto una parita tattica a Napoli bellissima. Domani avrà funzioni e compiti diversi, per essere chiari. Però vi ho ricordato questo perché Spalletti e Pioli sono due bellissimi strateghi, sanno fare strategie importanti entrambi e da parte nostra, il nostro allenatore, come ha fatto una bella strategia di gara, una bella tattica di gara la scorsa stagione, mi auguro la possa fare anche per domani. Ragazzi, se noi domani torniamo al 4-2-3-1 o al Vediamo Cosa, bisogna essere concentrati, bisogna essere tosti perché domani ci giochiamo molto, anche senza Osimèni in Napoli fortissimo, anzi, sono convinto che l'assenza di Osimèni alzi la soglia della concentrazione di tutti i suoi compagni e quindi domani stiamo attenti, umili, prima tiriamo fuori compattezza e intensità per evitare imbarcate e poi se riusciamo a dire la nostra nella partita andiamo a vedere se si può fare qualcosa di più di evitare le imbarcate. Ma, attenzione, umili, pazienti e scaltri, ma davvero questa volta, non come a Udine dove siamo stati un po' vaghi e un po' superficiali. A domani ragazzi, a domani, ciao a tutti.